Con Giorgio Ferrero, regista del cortometraggio Happy Birthday, in tour da sabato 24 settembre 2022, ben trovato! Buongiorno a tutti, ciao! Che lavoro è il tuo? Un po' fuori dagli schemi in questo caso, perché è un cortometraggio che ho tirato a marzo a Mosca, e un cortometraggio preparatorio del nuovo lungometraggio, questo video pan, che sarà il secondo lungometraggio, Metradi, dopo Beautiful Things, che è stato presentato a Venezia nel 2017, ed è appunto un film piuttosto sui generis, perché è stato girato completamente attraverso i social network da remoto, perché a marzo si è dovuto andare appunto in Russia per fare un viaggio preparatorio per il film, girando alcune immagini per costruire un teaser, e quindi sviluppare meglio l'idea sul posto, perché la Russia era uno dei luoghi in cui avrei dovuto sviluppare il film, non l'unico, ma uno dei luoghi principali, e non sono potuto partire, e abbiamo deciso, insieme a ragazze russe, sono delle ragazze filmette, 35-35 anni, molto giovani, talentuose, abbiamo deciso di continuare lo stesso, nonostante la guerra e l'impossibilità di vederci fisicamente, e in un certo senso abbiamo rilanciato, dall'idea di vederci per un workshop preparatorio, siamo passati all'idea di provare a realizzare insieme un cortometraggio, che servisce sia per trovare il linguaggio del film, che per raccontare soprattutto quello che repentinamente era accaduto intorno a noi, cioè il fatto dell'invasione in Ucraina, e il fatto che noi loro non avevamo più avuto modo di incontrarci, e più che altro per raccontare quello che loro stavano vivendo, che era una forte tensione umana, una sensazione di non avere più scampo e di dovere a fuggire. Quindi Happy Birthday è un cortometraggio che racconta la storia di una ballerina russa di 22 anni, nata nel 2000, e racconta la storia del giorno del suo compleanno, è un compleanno per data particolare, perché lei è nata il 29 di febbraio, e questo caso l'ha portata ad incontrare altri ragazzi online, ma anche il suo stesso giorno. Raccontiamo quella data, una data importante, simbolica per l'anno in cui viviamo, perché è un compleanno che accade pochi giorni dopo dall'invasione in Ucraina, è un compleanno che lei festeggia il 28 di febbraio, il giorno in cui abbiamo dato la storia, perché chiaramente nel 2022 e non si chiedeva nel 29, e raccontiamo questa giornata in cui questa ballerina russa, conosciuta sui social network come Letta, ispirata dalla protagonista della segre di primavera di Dostradnitsky, che è un balletto celebre per chi fa il ballerino in Russia, in cui c'è questa ragazza che si manifesta sui social network in modo molto esponsivo e molto catchy per il mondo intorno a lei, virtuale, che però allo stesso tempo vive delle grandi difficoltà delle comprensioni psicologiche interiori, sia in casa sua che nella società in cui vive. Ed è la storia di questa giornata in cui una ragazza in una Russia che si sta completamente chiudendo al mondo deve trovare una via di uscita per poter vivere ed essere se stessa e la trova in connessione digitale con degli amici che stanno lontani da lei, dall'altra parte del mondo, che ha conosciuto su internet per dei contigli banali come la data di nascita e per delle verità che ha in comune, che sono quelle appunto del parlare del camera change, dell'affrontare i temi politici e sociali che sono intorno a questa generazione e in un certo senso questo ragazzo si appende a questa casualità per trovare una via di uscita e cerca di lasciare il paese per andare verso questi ragazzi che non l'ha mai incontrato fisicamente ma che ha sempre solo conosciuto l'internet. È una storia di fuga che dal digitale diventa reale, di una contemporaneità estremamente dura con questa generazione che è una generazione di ventenni che si ritrova volente o non è in teatro per gestire delle tensioni politico-sociali estremamente forti e spesso senza sentire di avere una via di uscita. Hai scelto un tour di presentazione nelle sale e ce ne parli? Il cortometraggio è stato presentato in modo molto per noi inaspettato alla SIC, è stato il film che ha chiuso la settimana internazionale della critica di Venezia di quest'anno e proprio grazie alla SIC e al distributore che premier film lo stiamo portando in sale in una serie di proiezioni in evento in giro per l'Italia, due proiezioni a Roma, Verona, Trento, Doricce, ci sono diverse città in Italia che si stanno ancora alimentando e durante il prossimo medio sarà visibile un po' in giro. Il film è stato acquisito dalla Rai quasi subito, quindi sarà poi visibile sui canali di Rai Cinema Channel e sarà programmato appunto dalla Rai prossimamente e attualmente non è ancora invece uscito all'estero e avrà una prima internazionale a breve, sta per iniziare a fare il suo tour di un festival internazionale, quindi si può vedere prossimamente in alcuni cinema italiani e poi si potrà vedere sui canali della Rai. Per saperne di più ci sono dei riferimenti internet? C'è il sito del distributore che premier film, ci sono i miei canali digitali come Giorgio Ferrero, sia su Instagram, anche su Facebook, in cui si trotte informazioni nei miei progetti, anche le date di questo tour dentro ai cinema di Happy Birthday. Io se lo presento in alcuni eventi potrò incontrare anche il pubblico e raccontargli questa storia che parte dalla sala ma poi entra fortemente nella nostra vita reale. Il cortometraggio Happy Birthday in tour da sabato 24 settembre 2022, un saluto e un ringraziamento al regista Giorgio Ferrero. A presto! Grazie, grazie, buon lavoro, grazie a tutti, arrivederci.